Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere una tecnica con scadenza a 5 minuti come si imposta sulla piattaforma NetDania. Questa tecnica con scadenza a 5 minuti è con l'indicatore RSI e ADX. Oggi è domenica 21 e i grafici non sono in movimento, quindi è ideale per farvi vedere come si impostano. Poi potete utilizzare la tecnica con i grafici impostati in questa maniera. Allora dovete mettere un time frame a 5 minuti, poi dovete andare su studies e aggiungere le bande di Bollinger Bollinger Bands. Io le coloro tutte e due, stanno già impostate a 20 periodi e due deviazioni standard, io le coloro tutte e due di colore blu. Ok. Poi dobbiamo aggiungere una media mobile a 14 periodi. Andiamo su studies, movie average, 14. Di colore rosso. Poi andiamo di nuovo su studies e aggiungiamo l'RSI, Relative Strange Index. A 7 periodi, non a 14. E adesso aggiungiamo l'indicatore ADX. ADX Average Directional Index. ADX 9 e smooth A14. Mettiamolo, facciamolo di colore blu. Adesso invece se vogliamo aggiungere le linee, possiamo andare su Lines, Add Lines, Add Free Horizontal Trend Line. E aggiungiamo una linea a 70 e una linea a 30 e qua una linea a 25. Adesso premete il tasto sinistro del mouse e settatela. andate in Properties e qua mettete i numeri. Allora, settato a 30. Apply, ok. E questo a 70. Apply, ok. Ecco, abbiamo le due linee settate. 30 e 70. Vediamo, qua potete impostare il colore. Per esempio, vogliamo che le due linee devono essere rosse. Impostiamolo pure qui. Ok. Questa linea invece la dovete impostare a 25. 25, sempre rossa. Ok. Allora, se vogliamo ingrandire il grafico, basta andare sulla lente con il più e ingrandiamo la parte che ci serve. Ok. Allora, come funziona questa tecnica? Allora, questa tecnica funziona che quando l'RSI esce fuori, sia da sopra che da sotto, esce fuori dalle bande, voi potete investire con una scadenza di 5 minuti. Naturalmente la DX deve essere in trend. Allora, vediamo un po' con le occasioni. Allora, io prendo dove la DX è in trend. Per esempio, qui. Che cosa è successo qui? Qui è successo che l'RSI è uscito da sopra a sotto. Infatti, abbiamo circa 10 minuti e più in salita. Quindi, una scadenza di 5 minuti sarebbe andata bene. Mentre, qui che è successo, qui l'RSI è rientrato. Quindi, possiamo investire al ripasso con una scadenza di 5 minuti. Qui che cosa è successo? Qui la DX di nuovo sta risalendo. E in questo punto, proprio in questo punto, è salito. In questo punto è salito 10-15 minuti. Quindi, una scadenza di 5 minuti sarebbe andata bene. Qui che cosa è successo? Qui è successo che è sceso. Sarebbe andata bene anche una discesa. Però, io comunque, con questa tecnica consiglio sempre di seguire il trend. Allora, in questo caso, il trend è rialzista. Quindi, le piccole discese io non le prenderei in considerazione. Prenderei in considerazione solo quando l'RSI esce dalle bande superiori, dalle linee dei 70, da sotto a sopra. Invece, quando il trend sta andando a ribasso, io prendo in considerazione solo la linea dei 30, cioè quando l'RSI esce da sopra a sotto, sotto i 30. Per esempio, in questo punto, un investimento di 5 minuti a ribasso sarebbe andato bene. Inoltre, perché c'è questa linea a 14 periodi? La linea a 14 periodi serve per investire a rialzo e a ribasso. Se il prezzo si trova nella parte inferiore, bisogna investire a ribasso. Se il prezzo, invece, si trova nella parte superiore, investite a rialzo. Infatti, qui, per esempio, si trova nella parte superiore e il trend è rialzista. e l'RSI da sotto a sopra va a rialzo. Mentre qui il prezzo si trova nella parte inferiore del grafico, quindi il trend è ribassista e, per esempio, qui abbiamo che l'RSI esce dalla parte inferiore, quindi un investimento a ribasso di 5 minuti sarebbe andato più che bene. Vedete? Qua dura anche più di 5 minuti l'investimento. Quindi, questa tecnica l'ho spiegata anche sull'altra piattaforma e sul sito ci sono anche i grafici di Freak Social per questa tecnica. Io volevo spiegarvela anche sulla piattaforma di NetDania perché comunque non tutte le tecniche sono applicabili su questa piattaforma perché mancano alcuni indicatori su questa piattaforma. però so che c'è chi la usa e quindi vi sto indicando le varie tecniche per poterla usare. Vi faccio vedere dove sta questa tecnica nel mio sito. Allora, dovete andare sempre nella sezione grafici e grafico 5 minuti RSI dovrebbe essere questo. Grazie. Facciamo un aggiornamento Purtroppo la domenica sono ancora più lenti perché comunque il mercato è chiuso quindi sono i grafici di venerdì nel frattempo che si caricano vi ricordo che questa impostazione la potete salvare andando in Workspace e cliccando su Save As quindi potete dare il nome che volete quindi ogni volta che vi collegate vedete qui stanno scritti per esempio in questa tecnica ho dato il nome 15 minuti questa 30 secondi questa grafico 5 minuti questa stocastico e si creeranno dei tab dove voi potete andare a prendere la tecnica che vi interessa inoltre vi ricordo che potete rimpicciolire i grafici e potete metterne circa 6-9 a seconda di quanti ne volete mettere nella pagina e potete lo stesso salvare il Workspace per questi grafici vediamo qui allora io questi grafici li devo aggiustare perché non entrano c'è un problema vedete e questi sono degli applet quindi mi toccherà rimpicciolire questo di centro forse non si vedrà il prezzo per poter visualizzare anche gli altri grafici vedete se no se sono troppo grandi non si vedono comunque la tecnica rimane questa vediamo per esempio qui in questa occasione che cosa è successo è successo che vedete c'è stato un netto rialzo e l'RSI è uscito dal canale vedete quante candele rialzista quindi 5 minuti va benissimo l'investimento di 5 minuti e invece qua c'è stato un ribasso vedete qua è uscito dalla parte inferiore e quindi è durato più di 5 minuti quindi potete andare tranquilli con un investimento di 5 minuti qui presto metterò il grafico presto lo aggiusterò e vediamo un poco dunque presto aggiusterò il grafico perché piano piano li sto aggiustando tutti ho trasportato tutti i grafici che si trovavano nella parte inferiore li ho trasportati in questa pagina e invece qua potete trovare i grafici da settare proprio voi con la vostra tecnica io vorrei ricordarvi i miei ebook tra i quali investire in opzioni binarie che è il primo ebook per i principianti che vogliono iniziare a fare trading con le opzioni binarie spiega tutto dalla A alla Z e qua ci sono i video di ogni capitolo che potete visualizzare poi c'è il secondo ebook per chi già conosce le opzioni binarie ma vuole avere alcune tecniche migliori di investimento da fare e vuole sapere come si crea un piano di trading per riuscire a ottenere il proprio obiettivo nel trading qua come al solito ci sono tutti i capitoli che potete andare a visualizzare e qui c'è il mio terzo ebook le grandi teorie per investire nelle opzioni binarie tra i quali la teoria di Dow di Fidbonacci e di Elliot vi spiego queste teorie e vi spiego anche come si applicano praticamente agli opzioni binarie e come si configurano i vari grafici io credo che un trader le dovrebbe sapere queste teorie perché sono proprio il nocciolo di questo sistema di trading diciamo Dow per esempio fu proprio colui che inventò l'analisi tecnica se non ci fosse stato lui diciamo tutti questi indicatori queste analisi sul prezzo non ci sarebbero quindi io sto creando un altro ebook diciamo che è successivo a questo perché credo che comunque anche se questi ebook è un bel mattone dove spiega le teorie un ebook di 145 pagine comunque va completato con con la spiegazione del trend delle resistenze e delle varie tecniche di fibonacci con alcune tecniche che sto creando sui supporti e le resistenze questo perché perché specialmente la teoria di fibonacci applicata al trading si basa sui supporti e sulle resistenze e quindi qua andava fatto un discorso a parte e poi se ci riesco credo prima dell'estate sto facendo uscire un altro ebook dove ci sono altre cinque tecniche con un argomento sempre con un capitolo queste cinque tecniche sono alcune tecniche nuove che non sono presenti su youtube e sui video su youtube e alcune tecniche invece che ho già spiegato su youtube che però sono migliorate quindi io spero che questi due libri li posso mettere in in commercio prima dell'inizio di settembre e allora io spero di essere stata chiara nella tecnica se per esempio volete andare a vedere meglio su youtube c'è un video su questa tecnica però diciamo è spiegato sulla piattaforma di frixto chart quindi potete andare a vedere meglio sulla piattaforma potete andare a vedere meglio su quest'altro video comunque la tecnica è semplicissima l'RSI è uno degli indicatori molto ma molto importanti che indica che indica sempre l'ipercomprato e l'ipervenduto e quindi una persona può approfittare quando a investire quando ci sono queste occasioni di ipercomprato e ipervenduto io vi do una buona domenica una felice domenica e spero che questo video vi sia di aiuto e vi sia piaciuto ci rivediamo al più presto con un altro video ciao e grazie della vostra visione